ciao a tutti in queste settimane sono veramente veramente incasinato a morte tra lavoro e impegni vari ho fatto un viaggio in toscana dopo vi faccio vedere e sto combattendo qua con schede audio software per editare la musica per fare video sto diventando scemo e poi sto lavorando tantissimo un progetto fighissimo ragazzi mi raccomando iscrivetevi se non l'avete fatto lasciate qualche commento vi lascio un esercizietto al bacio grazie a tutti 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 Grazie a tutti.